Oggi nonostante il maltempo è senz'altro una giornata di grande soddisfazione, abbiamo riaperto il ponte a Monale, un'opera senz'altro utile, non impattante, è stata realizzata con le barriere in legno rivestita in pietra di langa e credo che dopo tutte le problematiche che ci sono state nel corso della realizzazione di quest'opera, oggi possiamo dire che è diventato il ponte della Concordia. Ringrazio ancora tutti gli abitanti di Monale per la pazienza e in modo particolare il sindaco che ci ha sempre sfronati e come avevamo concordato di riaprire entro il 31 di gennaio nonostante il mio tempo. Volgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione provinciale e in particolare l'assessore signora Zanna Valle per la funzione che ha avuto da questo ponte. Volgo anche l'occasione per ringraziare tutto il servizio tecnico della provincia e dell'impresa che hanno dimostrato l'impegno e la professionalità. Grazie a tutti.